ciao a tutti anime bentornati su quinta dimensione letture un saluto a tutti quanti a tutto il mio pubblico grazie mille di essere sempre qua così affettuosamente grazie a tutti gli iscritti veramente di cuore agli abbonati che sostengono il canale grazie davvero dal profondo del cuore a tutti quanti do un saluto e un benvenuto anche a tutti i nuovi che si trovano qua ad ascoltarmi per la prima volta e vi invito rinnovo a tutti quanti insieme l'invito ad iscrivervi a questo canale e ad attivare la campanellina sotto cliccando poi su tutte leggete anche la descrizione del video perché ci sono molte informazioni sul video specialmente nei video particolari come questo che stiamo facendo poi avete anche tutti i link per andare a vedere gli accessori che creo i mazzi di oracoli che ho creato e anche su quinta dimensione letture punto it c'è il sito sempre qui sotto nella descrizione del video andate a vedere proprio tutti i servizi che offro chi vuole parlare in privato con me con una consulenza per insomma vedere un po la sua crescita spirituale il suo cammino insomma vedete voi chi vuol fare i consulti trattamenti energetici reiki eccetera andate proprio sul sito date un'occhiata al negozio alla panoramica di quelli che sono i servizi che sono proprio il mio lavoro che offro a voi e poi scegliete poi prendiamo un appuntamento e ci accordiamo allora care anime care carissime anime qui abbiamo adesso due codici sacri in un unico video perché sono diciamo per la funzione la stessa una in maniera più lieve un'altra per una maniera più grave e sto parlando di codici sacri che questo canale viene proposto i tantissimi devo fare poi delle devo dire anche delle cose sui codici sacri che ho visto c'è una mala informazione una disinformazione in giro anche che mi dite voi che avete visto in giro quindi farò un appunto su questo quello che vi voglio dire è che sono codici sacri che vanno sempre bene non solo in estate ma sempre tutto l'anno perché perché parliamo di perdita di peso e parliamo di obesità faremo questi due codici sacri ve li ho messi insieme perché perché si possono fare più codici sacri insieme in un giorno oltre agli altri che già avete potete unire anche questi se vi servono ovviamente questi sono codici sacri che vi devono servire se no è inutile che li fate oppure li passate a qualcuno a qualcuno che sapete che deve perdere peso allora qual è la differenza ascoltate bene tutto il video però per la spiegazione per lo meno all'inizio quando avete capito bene poi eventualmente le volte successive fate il codice sacro lo potete fare sopra di me anche sopra la mia voce se non avete modo di contare le 45 volte che va recitato lo fate sopra me sapete sicuramente che quando mi fermo io abbiamo fatto 45 il codice sacro va fatto per se stessi care anime non possiamo intervenire su un'altra persona se la cosa non la desidera se la sua anima non desidera questa cosa deve essere la persona dal suo libero arbitrio a fare queste cose allora stavo dicendo appunto che spiego il primo è per la perdita di peso diciamo generale chi deve perdere qualche chiletto chi qualcuno di più però è una perdita di peso controllata diciamo per ritornare un po' in forma mi sono un po' ingrassata mi sono un po' ingrassato ho preso qualche chilo sono sei mesi che mangio schifezze mi sono ingrassato sono goffio la pancia ecco allora facciamo il primo che è il 3 2 1 9 4 per i casi più gravi dove ormai c'è un eccesso di grasso da tanti anni la situazione non si sblocca andiamo avanti proprio da tanto c'è proprio il codice sacro che è il 9 8 9 per l'obesità quindi perdita di peso e obesità come decidere quale fare dei due quando i chili sono tanti care anime quando non sono più 3 4 5 chili 6 verso ovviamente ognuno anche lì lasciamo stare il peso forma che ci sono scritti in giro eccetera anche lì infatti la richiesta poi la sentirete cosa dice la richiesta prima di fare questo codice sacro dice il mio peso ideale perché perché da tabella che avete trovato di là c'è scritto che dove dovereste pesare che ne so 55 chili da quell'altro dicono che devi pesare 57 vai dal nutrizionista da chi vuoi tu dal medico e ti dice che devi pesare 53 insomma tutta sta cosa facciamo fare all'universo facciamo fare all'universo il nostro peso ideale è in base a tante cose lo so che anche nelle tabelle c'è statura per diviso altezza peso è tutto qua uomo donna che sia però facciamo fare all'universo il nostro peso è quando ci piacciamo noi care anime il nostro peso ideale è quando ci piacciamo noi perché se diciamo che un nostro peso potrebbe essere 55 ma ne pesiamo 57 ma stanno bene quei due chili la lasciamo stare quello è il nostro peso ideale quando ti guardi allo specchio e dici va bene fai questo non guardare troppo la tecnica o la scienza per carità seguire un regime alimentare chi è in questo momento sotto cura di dietologi vari lo faccia continui questo non è un decreto che va a sostituire il medico come tutto quello che c'è nel mio canale niente va a sostituire la medicina ufficiale va bene quindi continuate i vostri regimi alimentari che vi sono stati dati da nutrizionisti dottori eccetera potete unire questo per avere un impatto più forte questi codici sacri come scegliere dicevo intanto chiedendo il peso ideale all'universo e se chili sono massimo 6 7 chili va bene anche il primo stop quando i chili ripeto sono tanti sono 10 15 20 30 chili 40 chili cioè quelle situazioni ormai magari anche vecchie che siamo diventati così già da tanto o anche da poco però sono tanti i chili facciamo l'obesità eventualmente puoi fare anche solo obesità quello il secondo che faremo quindi chi nel dubbio dice sto proprio lì in mezzo i chili sono tanti ma non così tantissimi no che non sono obeso però insomma ecco quella via di mezzo fateli tutti e due facciamo fare all'universo li fate iniziate il primo finite il primo e poi fate il secondo punto non c'è problema non c'è errore i codici sacri vanno fatti almeno 21 giorni ma ripeto ripeto per l'ennesima volta ognuno è un essere unico quindi io consiglierei finché non si cominciano a vedere i risultati a sentire anche nel proprio corpo un'energia che si sta muovendo fateli possono li potete fare anche un anno tutti i giorni l'importante è che siete costanti quindi fateli finché non vedete un risultato appunto come si fanno si ripete il numero il codice sacro per 45 volte una volta al giorno lo dovete fare non tre volte al giorno come le parole magiche lo fate una volta detto per 45 volte e poi insomma i giorni ecco vedete voi minimo 21 perché il subconscio ha bisogno del suo tempo per digerire la cosa rimanendo in tema di gestioni cibo e peso eccetera no quindi c'è bisogno comunque del suo tempo va bene per essere assimilato allora l'altro appunto che voglio dire e ci dice bene insomma ci si sposa molto bene con quello che ho detto ora il codice sacro non va attivato mi dicono ora vedo in giro gente attivo codice sacro che ne so 777 quello del miracolo che c'è anche qui sul video per chiedere sul canale per chiedere il miracolo e no e magari attivo codice sacro ma dove l'avete letto non lo so non va bene questa cosa il codice sacro va recitato è un'energia che si muove una meditazione è una bestemmia quella lì del attivo codice sacro non esiste perché quando noi così approfitto anche per ricordare cos'è un codice sacro quando noi cominciamo a fare un codice sacro cominciamo una preghiera una richiesta all'universo agli angeli che è una cosa importante non è una semplice preghiera ti prego fammi che ne so cambiare casa è una cosa che ha un processo lungo care anime non è corto va innescato tutto un processo di energia dall'alto per darvi questo risultato e dicendo attivo e poi ciao non si attiva proprio niente dovete farlo tutti i giorni quando dite questa parola questo numero voi muovete una certa energia e richiamate richiamate proprio anche gli esseri di luce quindi funziona se voi lo ripetete 45 volte per tutto il tempo che necessitate non dicendo attivo codice sacro e basta spero di aver chiarito perché è una cosa pazzesca questa è una bestemmia a livello proprio energetico non funziona così va bene altra cosa sarebbe meglio a voce alta si possono dire anche mentalmente ma non ve lo consiglio più di tanto ditelo a voce alta è meglio muovete il quinto chakra muovete tutta una vibrazione corporea che è diversa dal dirlo mentalmente va bene poi se proprio c'è un caso estremo che proprio c'è gente dalla mattina per tutte 24 ore in casa quel giorno lo farete mentalmente ma il giorno dopo andate subito a rifarlo se potete a voce alta questo è l'importante dopo aver recitato i nostri codici faremo le carte dove ci sono anche indicate i chakra proprio dell'angelo custode perché comunque sono coinvolti gli angeli gli esseri di luce nei codici sacri tireremo fuori vediamo qualche chakra perché comunque un discorso il discorso del peso è anche una disfunzione di alcuni alcuni chakra nel corpo no quindi cerchiamo adesso di concentrarci sapete che prima di fare la richiesta dobbiamo fare dei respiri un po di insomma acquietarsi quei due minuti cominciate a fare una bella respirazione gonfiando la pancia nella parte della inspirazione quindi quando inspiriamo la pancia va fuori e si gonfia chi è esperto può fare un po di apnea quindi trattenere il respiro per qualche secondo e nella fase di espirazione quindi quando buttiamo fuori l'aria la pancia si sgonfia cioè rientra quindi facciamo tre respiri di questo tipo e poi cominciamo con la richiesta dopo la richiesta cominciamo con il codice sacro ricordo chi vuole li può fare tutti e due chi è insicuro chi non sa quale sia più adatto alla sua persona li faccia tutti e due chi invece proprio veramente deve perdere solo qualche chiletto per mettersi in forma faccia solo il primo che è quello per la perdita di peso il secondo è per casi più importanti dove ci sono tanti chili e una situazione diciamo più ostinata va bene partiamo con dei bei respiri poi alla fine dei due codici sacri faremo le carte dell'angelo partiamo con dei due codici sacri faremo le carte di peso universo angeli ed esseri di luce in armonia con tutto il mondo sotto la grazia e in maniera perfetta io chiedo che il mio corpo venga riportato al suo peso ideale è fatto è fatto è fatto grazie 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 tre due 1 nove quattro 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 3 2 1 9 4 989 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 99 99 90 99 scegli la carta 1 2 o 3 e vediamo qual è il consiglio l'esercizio per te quello che ti deve venire proprio adesso vediamo quali chakra sono indicati su cui lavorare magari meglio chi vuole c'è la riequilibratura chakra sul mio sito chi vuole faccio un controllo dei chakra con relativa riequilibratura vediamo carta numero 1 carta numero 2 e carta numero 3 ecco qua scegli pure la 1 la 2 o la 3 partiamo con la carta 1 libertà numero 27 cerca di capire ciò che vuoi qui vediamo già coinvolti vediamo del rosso quindi potrebbero essere chakra bassi vediamo un po però è associato anche il discorso non è solo il chakra vediamo anche qual è il messaggio numero 27 libertà cerca di capire ciò che vuoi allora essere libero significa compiere uno sforzo per percepire con chiarezza ciò che vuoi ottenere dalla vita e ti suggerisce di restare un po solo per raccogliere le idee ed elaborare nuove soluzioni affidati al potere dell'intuizione emotiva che deriva dall'equilibrio del secondo chakra alla costanza e alla determinazione che scaturiscono dal primo e alla possibilità di ampliare la tua visione generale collegata al quarto questo è il consiglio per essere veramente libero devi prima acquisire familiarità con la tua libertà interiore immagina di essere solo sulla cima del mondo stai guardando un orizzonte infinito sei sulla soglia di un panorama nuovo osserva tutte le possibilità che si spalancano davanti a te e sentiti in diritto di scegliere la tua strada percepisci la forza che deriva dalla tua scelta e mantieni questa impressione quando senti che l'indecisione avanza ricollegati con questa sensazione qui ci sono persone fortemente costrette a quanto vedo allora primo secondo e quarto chakra ripeto primo secondo e quarto chakra quindi equilibrio del secondo chakra dal primo dove scaturisce determinazione e ampliamento di visione generale collegata al quarto chakra infatti abbiamo arancio che è il secondo abbiamo il rosso che è il primo e abbiamo il verde che è il quarto chakra qui bisogna un po liberarsi dalle catene cara anima numero 27 la libertà della scelta la libertà di dire io sono io posso io faccio io decido la libertà dalle costrizioni da tutto ciò che in questo momento ti ha tenuto in catene e magari guardate che c'è una correlazione psicologica ti ha portato anche ad aumentare di peso perché quando siamo sempre a inghiottire inghiottiamo e stiamo zitti inghiottiamo quello diventa grasso diventa gonfio anche quella è una delle diciamo delle spiegazioni per la diciamo l'aumento di peso ovviamente non ci sono altri casi che ne sono la tiroide per esempio quelle sono cose mediche ma ripeto qui non si fanno diagnosi questo non è un canale medico quindi ripeto continuate sempre le vostre cure poi associate certo che sì le energie come proprio una cosa che va a agire in più a dare una forza alla vostra cura che fate quindi mi raccomando primo secondo e quarto chakra e questi colori anche nella visualizzazione ti possono aiutare quindi puoi visualizzare molto il rosso l'arancione e il verde cerca su internet anche delle pietre associate eventualmente a questi chakra vediamo chi ha scelto la carta numero 2 allora togliamo la 1 la carta numero 2 semplicità numero 28 il tuo principale ostacolo sei tu infatti siamo andati in fila prima 27 adesso 28 vediamo del giallo quindi allora qui dice forse a volte ti complichi inutilmente la vita facendoti assalire da ogni sorta di dubbi e di ansia la carta ti segnala che dovresti attingere alla semplicità non ha senso che tu ti ponga mille interrogativi che finiscono con lo svuotarti l'energia e non portano ad alcun risultato smetti di tormentarti quindi e affidati alla saggezza degli angeli resterai meravigliato da quanto la situazione sia meno complicata di come l'avevi immaginata affidati all'energia del quarto chakra che ti porta amore incondizionato e attinge le tue risorse di saggezza attraverso il terzo chakra tieni sotto controllo lo stomaco fegato e intestino tenue ecco qua che ci ha dato un'altra indicazione proprio di organi che sono comunque associati al terzo e quarto chakra anche insomma non solo ma anche quindi stomaco fegato e intestino tenue quarto chakra e terzo chakra va bene care anime il tuo principale ostacolo sei tu basta con le complicarsi la vita le cose sono più semplici di quello che pensi in realtà magari hai avuto delle convinzioni per tutta la vita che ti hanno portato a credere di dover scalare sempre le montagne non ce la farò oppure te l'hanno detto sempre non ce la farai ma dove vai ma cosa fai ma tu non sei in grado ma tu non puoi no quindi rafforziamo anche il terzo chakra a livello di autostima va bene di forza personale dire certo che posso no quindi mi raccomando qua anche questi chakra e mi raccomando di non complicarsi la vita più del necessario perché veramente non serve veramente non serve affida dice qua ai tuoi angeli questa cosa affidala diglielo io miei angeli mie guide io do a voi questo peso do a voi questo problema va bene questa è una cosa molto bella che potete fare con le vostre guide con i vostri angeli e vi sentirete sollevati fatelo tutti i giorni va bene questo era la carta numero due passiamo alla carta numero tre vediamo che messaggio c'era da tre contatto non sempre si può ottenere ciò che si chiede vediamo qua abbiamo tutto questo bel bianco allora il contatto numero 13 allora il contatto con gli angeli è possibile in ogni momento della tua vita e che non necessariamente il rapporto con loro deve essere subordinato a una richiesta gli angeli infatti ti stanno vicino in ogni caso proteggendoti e aiutandoti se manterrai il contatto potrai capire se ciò che stai chiedendo è davvero fondamentale per la tua crescita perché ecco per esempio scusate adesso dico una cosa quando dico chiedete per il vostro più alto bene quando fate le richieste perché perché potreste anche chiedere cose non fondamentali a voi sembrano fondamentali ma non per l'altissimo bene per l'universo per chi ne sa più di noi non possiamo essere così egoici da pensare di saperne più di un essere di luce no questa carta è in relazione con l'energia del quinto chakra quindi gola legato alla comunicazione responsabile del sesto quindi il terzo occhio che attiva la sensibilità e del settimo collegato al senso di completezza qui andiamo su più in alto rispetto alle altre carte quinto sesto e settimo che il settimo è il chakra della corona che è sopra la testa quindi qui c'è il collegamento infatti si chiama contatto il consiglio è questo puoi cercare il contatto con gli angeli nel modo che preferisci o che reputi più adatto a te in questo momento quindi qui allora qui secondo me c'è gente che comunque già le fa queste cose sono sicura perché non ti sta dicendo fai così fai così ti sta dicendo trova tu il modo per trovare il contatto cioè per cercare di avere questo contatto nel modo più semplice come ti senti in questo momento è va bene fallo può essere anche una semplice conversazione con gli angeli perché ricordati che ti dice che non è che per forza li devi chiamare o parlarci quando ti serve qualcosa la conversazione il contatto con le alte energie di luce può avvenire in qualsiasi momento anche solo buongiorno aiutami in questa giornata so che andrà tutto bene grazie so che ci sei fatti sentire dammi un segno cioè una conversazione anche normale non sempre solo quando serve va bene questo è molto importante quinto chakra sesto chakra e settimo chakra qui andiamo un pochino più su a livello magari di qualche chakra che deve essere più diciamo che deve ruotare perché il chakra è un vortice che deve ruotare in modo un pochino più giusto diciamo così ricorda tutti c'è la riequilibratura dei chakra chi interessa chi magari bisogna di una spinta e poi fa da solo magari ma se c'è insomma qualcosa di molto piuttosto c'è il controllo dei chakra che posso fare con la successiva riequilibratura mi raccomando il contatto quotidiano questo era per te cara carta numero 3 grazie mille a tutti se vi è piaciuto questo video aiutate questo canale a crescere lasciatemi quindi un like commentate sotto fatemi sapere poi anche dopo tempo è venire a cercare questo codice sacro e mi venite a dire sotto magari le vostre cose com'è andata fatemi sapere insomma le cose io vi ringrazio tutti vi ricordo di andare sul sito web chi vuol parlare con me in privato ma anche per leggere tutta la sezione dei contenuti importanti che metto meditazione aggiornamenti sulla situazione planetaria le canalizzazioni e sul sito c'è anche tutto appunto il servizio che offro leggete sotto anche la descrizione del video perché si va anche sul sito dove potete vedere gli oracoli anzi grazie davvero a tutti quelli che stanno acquistando i miei oracoli grazie davvero a tutti quanti che dire care anime buon codice sacro fatelo bene mi raccomando riascoltatelo se avete bisogno delle cose lo potete fare sopra la mia voce chi non ha proprio la possibilità o non è in grado perché magari non può di contare 45 sapete che è già tarato da me a 45 volte quello che avete sentito va bene quindi state tranquilli è già contato da me grazie mille a tutti per questo video ho terminato fatevi in giro nelle playlist ci sono tanti codici sacri preghiere parole magiche di cristiano tenca tante cose che vi aiutano nella vostra quotidianità grazie mille a tutti ancora e vi aspetto presto su quinta dimensione letture per un nuovo video insieme a me ciao a tutti grazie